Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle gratificazioni e delle penalizzazioni in amore. Gratificazione e penalizzazione cosa vuol dire? Allora, la gratificazione vuol dire gratificare quello che l'altra persona desidera a livello logico e razionale. Penalizzare vuol dire non gratificare la parte logica ma dare emozioni alla sfera emotiva. Per fare un esempio, gratifico una persona per dire in una relazione, se so che le piace tanto andare a mangiare al ristorante vatte la pesca e la porto a mangiare al ristorante vatte la pesca. Oppure mi metto a complementare le sue esigenze, so che le piace tanto andare, che ne so, in vacanza in Sicilia e la porto in vacanza in Sicilia. Penalizzare invece significa dare emozioni. Emozioni che non piacciono ovviamente alla sfera logico e razionale. Perché quando gratifico appago un desiderio, quando penalizzo rigenero un desiderio. Vuol dire che, come faccio a penalizzare, negli esempi che io ho fatto, gli dico dai andiamo a mangiare, andremo a mangiare a sto ristorante perché si mangia proprio bene, andiamo sabato, poi le dico, ah cavolo, sto sabato non riesco perché ho un impegno, non possiamo andare, bla bla bla, mi invento una scusa e non ce la porto. Io li ho amplificato, li ho rigenerato perché gli ho parlato di sto ristorante, gli ho fatto venire voglia ancora di più di andare a mangiare in quel ristorante, poi alla fine con una scusa logico e razionale non ce l'ho portato. E quindi di fatto gli ho dato emozioni, gli ho dato anche un po' di rabbia. La rabbia è sempre meglio evitarla. E per evitare la rabbia devo, diciamo, trovare una scusa con una motivazione sostenibile. Se trovo una scusa con una motivazione sostenibile, allora praticamente riesco ad ottenere cosa? Ottenere che si nutra di desiderio, che si nutra di emotività, emotività pura, e quindi questo significa coinvolgimento. Ora uno dice, ma se tu gli neghi le cose si coinvolge? Sì, si coinvolge la parte emotiva, non la parte logica, per cui ogni tanto al ristorante vatte alla pesca e ce la devo portare, ma molto meno di quanto sarebbe la sua esigenza, insomma. In questo modo riesco a produrre emotività. Ovviamente questo è un esempio, Poi le penalizzazioni posso utilizzarle in mille modi diversi. Ad esempio in una relazione, diciamo, cioè nella seduzione, ad esempio proprio nella fase seduttiva in generale, penalizzo non, come dire, dando indifferenza a una persona. Perché è ovvio che la parte logica di una persona vorrebbe essere gratificata, anche come attenzioni, e invece tu non le dai attenzioni. Proprio nella fase iniziale tratti un po' con insufficienza, la tratti con irriverenza. È ovvio che tutti quelli che trattano bene, sono sequiosi, ottengono dei risultati su un piano logico, ma però non ottengono dei risultati su un piano analogico. Invece facendo vivere, bisognerebbe calibrare, dare abbandono a chi si nutre di abbandono, dare rifiuto a chi si nutre di rifiuto, dare indifferenza a chi si nutre di indifferenza. Però è evidente che se tu, come dire, ti dimostri indifferente verso una persona, o magari rifiutare vuol dire anche rifiutare a livello non verbale, per dire, nell'ambito di una festa, di una situazione conviviale, ad esempio, non la guardi, guardi altri, uno dice, seduti in questo modo, certo, perché, come dire, vai a lanciare anche una sfida. Indirettamente vai a minare un po', diciamo, l'identità. La crisi, il genere è una crisi di identità, identità di femmina, ad esempio, perché non si sente assolutamente seduttiva. E quindi, anche in questo modo, vai a caricare di emotività. Poi è ovvio che, una volta che hai caricato, devi dare modo di scaricare, e gli dai modo di scaricare le emotività, ad esempio, uscendo con te. Quindi hai già, come dire, fatto però buona parte del lavoro. Praticamente, poi noti dei segnali non verbali, dei segnali di gradimento, che significa che la missione è stata compiuta, che la penalizzazione è andata a buon fine, quindi il pesciolino abboccato, adesso puoi tirare la rete. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!